Buonasera Lei è la dottoressa Chiara Esatto Benvenuta Nella mia spa Avevo un appuntamento ovviamente Si Lasci controllare i trattamenti Devo eseguire su di lei Ecco qui Allora lei è qui per un trattamento rilassante Al viso E se vuole poi posso mangiarla Anche di un massaggio alle mani Giusto Ok Allora lei è truccata in questo momento Ho dato un po' pieno di trucco Bene Facciamo una velocissima pulizia del viso Siete d'accordo? Ok Intanto Capito a rilassarsi E se vuole anche a chiudere gli occhi Ok Benissimo Nella mia spa È molto importante Ascoltare i suoni Che vari oggetti producono Perché pare che questo Provochi un brivido Sulla testa Esatto Direi poi Se l'ha sentito Ok Può cerarsi leggermente da questa parte Perfetto Perfetto Ok Adesso Troverò Proprio lì Una borraccia Contenente dell'acqua fresca Ve lo puoi passare per favore Grazie Grazie È molto bella la borraccia Ha degli avocado sopra Ora siamo un po' d'acqua in questa sciatola Ecco quello Grazie mille Allora Quello che andrò a fare adesso Sarà rinfrescargli un po' il viso Con quest'acqua È acqua fresca termale Quindi ha moltissime proprietà benefiche Per la sua pelle Ok La bagnerò un po' Ma poco poco Permesso Perfetto Quanto Ci sono l'effetto dell'acqua fresca serve anche a riattivare la microcircolazione l'effetto dell'acqua fresca serve anche a riattivare la microcircolazione adesso le farò annusare una fragranza rilassante è una miscela di oli essenziali anche questo ha un effetto molto molto benedico soprattutto sul suo umore a questo punto vorrei pettinarle un po' i capelli io vorrei usare questo pettine in legno però se lei preferisce ho anche una spazzola gliela faccio vedere mi dica lei questo è lo spazzolino e questo è il pettine in legno quale preferisce? puoi scegliere lei ok allora usiamo il pettine lo preferisco? che becca becca grazie li ha te colorati un po'? un pochino ce li avevo rosa? si è come se l'avessi già vista da qualche parte ma non ricordo anche lei sa molto familiare anche io in un'altra vita ho mai pensato di colorare i capelli non so per esempio di azzurro vorrei però mi freno un po' dopo il verde che torna è l'ubio giallo l'azzurro scarica un po' però mi piacerebbe ecco l'azurro scarica un po' l'azurro scarica un po' l'azurro scarica un po' Grazie. Grazie. E qui un poco questo. Perfetto. Adesso chiudo gli occhi perché utilizzeremo questo pennello. È un pennello dalle setole morbidissime. Può sentire se vuole. Molto morbido. E questo servirà per farle un massaggio al viso. Ok. Perfetto. 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 Sembra di capire che siamo un anello di fidanzamento. Esatto. Perfetto. 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 Perfetto.